Se stai lavorando e stai versando i tuoi contributi e per qualunque ragione vieni a mancare o tu o un tuo familiare, si genera un qualche tipo di pensione? In soldoni quindi, lasci alla famiglia qualche cosa ed avranno diritto a prendere qualche cosa dei contributi che hai versato oppure resteranno totalmente all'asciutto? Nel video di oggi parliamo della pensione superstiti, ovvero di quel tipo di pensione ad oggi, ti ricordo sempre e ti invito ad andare a vedere la differenza tra le pensioni ad oggi e le pensioni future, delle quali ho già parlato in altri video, e parliamo di quella pensione ad oggi che viene data ai familiari superstiti del lavoratore che viene a mancare, da non confondere con la pensione di reversibilità che invece viene data ai familiari superstiti del pensionato, quindi della persona che era già in pensione. Se vuoi capire come funziona e a cosa fare attenzione per questa tipologia di pensione, segui il video fino alla fine e se trovi che queste informazioni siano utili, metti un like e condividilo con più persone possibili. Ciao, io sono Daniele Stroppiana e sono il fondatore di Miglior Pensione e fondatore del progetto Assicuratore Senza Sorprese, due progetti che nel corso degli anni si sono fusi tra loro per andare ad aiutare le persone a stare lontano dalle brutte sorprese, ovvero dagli imprevisti della vita che capitano, attraverso l'analisi e il calcolo preventivo di tutte quelle che sono le pensioni, sia ad oggi, attuali, che future. Se ancora non l'hai fatto ti invito ad iscriverti a questo canale e agli altri miei social e se hai piacere di supportarci metti un like, scrivi dei commenti e racconta la tua storia o se hai bisogno di una consulenza scrivici alla mail che ti metto qui sotto. Come ti dicevo nell'intro quest'oggi parliamo della pensione superstiti in diretta, ovvero quella prestazione che viene data a una persona se ne ha diritto e quindi se ha maturato determinati requisiti e che viene data ai familiari superstiti, ovvero a coloro che facevano parte della famiglia e che si vedranno recapitare una certa percentuale di quello che era la pensione maturata. Qui subito una doverosa precisazione. Se la persona che stava lavorando guadagnava all'anno, facciamo cifre basse, 25.000 euro lordi e quindi circa 1250 euro netti al mese per 13 mensilità, alla famiglia non verranno dati 1250 euro netti al mese nel momento in cui viene a mancare la persona, ma bisogna calcolare insieme, ecco perché esiste il servizio miglior pensione, quelli che sono i contributi che la persona che è venuta a mancare ha versato fino a quel momento e quella che sarebbe la pensione superstiti, quindi per morte, che verrebbe data ai familiari superstiti. E mi dispiace dirtelo, ma spesso e volentieri se una persona guadagnava 1250 euro e aveva versato anche per 20 anni, quindi per metà carriera lavorativa. La pensione che viene data poi alla famiglia, se aveva una moglie e due figli e quindi viene riconosciuto tutto, è capace che sia intorno ai 500-600 euro lordi al mese. Quindi come puoi capire bene dall'esempio che ti ho fatto poco fa, ovviamente poi ogni situazione va analizzata, ma come puoi ben capire questa famiglia si troverebbe in serissima difficoltà rispetto ai 1250 che entravano e quelli invece che vengono dati. E io ti ho parlato di un esempio dove c'era una moglie e due figli, figli che devono essere a carico, figli che percepiranno questa parte di assegno di pensione di superstiti solo fino ai 18 anni o oltre ai 18 anni se ancora a carico e se stanno studiando. Quindi ci sono delle situazioni da analizzare. In più, un altro punto importantissimo che voglio approfondire con te e che voglio chiarire perché spesso e volentieri ci sono delle persone che mi seguono, che si dimostrano tuttologi, che sanno tutto, ma poi scrivono delle imprecisioni. Ci sono comunque quelle che si chiamano decurtazioni, quindi in base poi a se c'è moglie e figli, la pensione superstiti viene ancora decurtata e quindi è una percentuale, non viene dato tutto quanto. Questa percentuale non viene decurtata solo in alcuni casi, quindi se per esempio ci sono dei minori, ovvero dei bambini piccoli fino ai 18 anni, finché sono a carico, ma poi può essere ulteriormente decurtata in base a quelli che sono dei limiti reddituali. Perché dico che ci sono dei tuttologi? Perché mi citano la sentenza del 2022 dove assolutamente è stata cambiata la normativa. No, non è stata cambiata la normativa. È stato chiarito che in alcune situazioni e per alcuni redditi non avviene la decurtazione, ma per tutte le altre situazioni, esattamente come in passato, la decurtazione avviene sia per la composizione familiare, sia per la situazione reddituale, come ti ho detto prima, in base ai limiti di reddito. Quindi attenzione a non capire Roma per Toma, perché se no poi ti fai delle idee sbagliate. E perché ti è utile sapere queste informazioni? Ti è utile sapere queste informazioni perché attraverso il servizio di consulenza di miglior pensione possiamo calcolare insieme quelli che sono i contributi che tu o tuo marito o tu e tua moglie avete versato fino a questo momento. Calcoliamo insieme quella che sarebbe la pensione, in realtà calcoliamo le pensioni che andrebbero a generarsi. Abbiamo visto nello scorso video la pensione di invalidità, vedremmo in questo caso la pensione superstiti. Insieme a questa andremo a vedere anche le invalidità gravissime e poi anche le pensioni future, quindi il servizio di consulenza serve a farti una fotografia dell'oggi, a farti capire quali sono i problemi, quali sono le situazioni da andare a tamponare in qualche modo e poi ti dà nel report le soluzioni assicurative, finanziarie e giuridiche, a seconda di che ambito stiamo parlando, giuridiche per esempio dal punto di vista successorio, visto che stiamo parlando di morte e va a consigliarti anche se vuoi e se hai piacere i capitali, le polizze, le garanzie, le compagnie, un consulente piuttosto che un altro, insomma ti fa vedere il problema ma ti fa vedere anche le possibili soluzioni che hai e che deciderai tu se seguire con noi, con la nostra squadra oppure in autonomia con i professionisti di tua fiducia. Bene, anche per questo oggi è tutto, io ti do appuntamento al prossimo video, fammi sapere nei commenti se eri già a conoscenza di queste informazioni, fammi sapere se hai mai fatto una fotografia della tua situazione, se hai mai richiesto o avuto da parte di qualche professionista, un'analisi simile a questa o comunque di questo tipo che ti ha evidenziato sia i problemi che le soluzioni e io come al solito ti do appuntamento al prossimo video. Ciao da Daniele!